Con questa nostra quarta lezione entriamo nel vivo e affrontiamo un tema di cui si discute molto e come spesso accade con i temi che intercettano il grande dibattito, diventa difficile distinguere tra fantasia e realtà, tra grande narrazione e fatti. Perché in effetti quando si parla di grande reset, da un lato abbiamo la categoria dei cosiddetti complottisti che elaborano teorie sconnesse dalla realtà e propense a immaginare poteri occulti che agiscono nella penombra e dall'altro abbiamo gli anticomplottisti che per non ricadere in questa prima categoria non sono più in grado di porre domande, anzi si tengono a distanza di sicurezza da ogni domanda e da ogni spirito critico. Quindi abbiamo davvero soprattutto, direi non solo in questo ambito, ma soprattutto in questo ambito quando si ragiona di grande reset e affini abbiamo davvero il trionfo di queste due categorie che sono tra loro contrapposte ma che esprimono in egual misura intanto il dogmatismo che innerva la nostra epoca e poi anche un modo di pensare che in realtà è un modo di non pensare, di affrontare le questioni in maniera poco pensante. Noi invece proveremo a ragionare sui dati di fatto e quindi su quello che realmente si fa e si produce in questi contesti e proveremo ad analizzarlo in termini di analisi critica. Intanto The Great Reset non è un'invenzione priva di fondamento se considerate il fatto che nel 2020, l'anno dell'emergenza pandemica, il forum di Davos, di cui tra poco diremo il World Economic Forum, dedicò il suo consesso annuale esattamente al tema del grande reset, The Great Reset, era il titolo dell'incontro annuale. Quindi in qualche modo è qualcosa di riconosciuto dagli stessi che lo organizzano. Quindi stiamo parlando di una cosa che concretamente esiste, che non è pura finzione. Ecco, che cos'è il grande reset e che cos'è il forum di Davos. Facciamo un piccolo passo indietro per capire di cosa stiamo parlando, che cos'è il forum di Davos che ha organizzato questo consesso nel giugno del 2020 sul tema The Great Reset. Lo chiariremo subito ragionando sul World Economic Forum. Il World Economic Forum è una fondazione privata, si intende, con sede nei pressi di Ginevra, che non è nata all'altro ieri. E' nata addirittura, pensate, nel 1971 ed è nata su iniziativa di un economista, anche filantropo, visto che va di moda usare questo epiteto, il filantropo ed economista Klaus Schwab. Chi è Klaus Schwab? E' un, oltre a essere il patron del World Economic Forum, è un economista di aperta fede neoliberale, che con il forum di Davos ha dato il via, ha dato l'abbrivio a questo ciclo di incontri che ogni anno organizza presso la cittadina di Davos in Svizzera, nell'inverno, anche se poi con il coronavirus venne spostato alla primavera del 2020, organizza un convegno. Un convegno sulle Alpi Elvetiche, dove importanti esponenti di spicco della politica e dell'economia internazionale, nonché intellettuali e giornalisti opportunamente selezionati, si intende, si incontrano per discutere le urgenze del momento su un piano prettamente politico ed economico. Quindi il grande reset nasce all'interno di uno di questi incontri. Nel 2020 evidentemente gli intellettuali e giornalisti, ma poi soprattutto gli esponenti di spicco della politica e dell'economia hanno ritenuto che il tema del momento fosse il coronavirus e l'emergenza epidemica nel suo senso più ampio, ovviamente letta poi in chiave economica, politica e sociale. Come impatterà o come già sta impattando sul mondo sociale, politico ed economico la pandemia? Questa è un po' la domanda del convegno del 2020. E quindi se voi andate sul sito del World Economic Forum, we, scritto come noi in inglese, weforum.org, che sta per World Economic naturalmente, weforum.org slash great trattino reset, weforum.org slash great reset col trattino, leggete scritto Quindi vedete c'è un importante, un urgente bisogno per i pilastri dell'economia globale, di cooperare per agire sulle conseguenze della crisi aperta dal Covid-19. To improve the state of the world, the World Economic Forum is starting the Great Reset Initiative. Vedete appunto per affrontare la questione si dà il via a questa iniziativa legata appunto al tentativo di pensare l'emergenza. L'emergenza è curiosamente il Covid-19 abbinato subito al tema The Great Reset, che potremmo tradurre con il grande ricominciamento, se preferite il grande azzeramento, il grande cambiamento si potrebbe anche dire, ma non renderebbe bene l'idea. Fare reset è come con il computer, no? Quando cancellate tutto e si riparte da capo. In che senso? Ecco, i signori del World Economic Forum hanno ragionato su come stesse cambiando il mondo e l'hanno fatto dal loro punto di vista ovviamente. Non dimentichiamo che queste associazioni internazionali, dei gruppi dominanti, se ne possono menzionare molte altre senza necessariamente scadere nel complottista andante, come ad esempio il gruppo Bilderberg, sono effettivamente delle riunioni che esistono in cui un tempo si sarebbe detto i padroni, oggi non va più di moda questa categoria, ma di questo si tratta, sono i padroni del mondo, gli oligarchi del capitale, i capitalisti si sarebbe detto una volta e io continuo personalmente a dirlo, però chiamateli come volete, gli oligarchi del capitale, i signori della grande finanza, potete chiamarli come volete, l'importante è capire qual è la loro posizione nel diagramma dei rapporti di forza, si danno convegno in associazioni private e transnazionali a porte chiuse, con anche l'obbligo di segreto molto spesso, come nel caso del Bilderberg, per decidere come gestire nel loro interesse l'economia, la società, il mondo, c'è una sorta di riunione in cui fanno piani di sviluppo per la loro classe, cioè per la classe dominante. Ecco, anche il World Economic Forum rientra ovviamente in questa struttura perché è il luogo in cui i gruppi dominanti si ritrovano per presentare come nel benessere per il bene dell'umanità intera quello che in realtà è il bene, l'interesse della loro classe. E curiosamente lo stesso Klaus Schwab, il guru del forum di Davos, disse che bisognava vedere nel Covid-19 una stretta finestra di opportunità, anzi, testualmente disse Quindi la pandemia rappresenta una rara ma stretta finestra di opportunità per riflettere, reimmaginare e resettare, ricominciare il nostro mondo. Ovviamente una stretta finestra di opportunità che, sa va a san dir, viene ideologicamente presentata come aperta universalmente al genere umano, ma che riguarda solo il blocco oligarchico neoliberale, appunto quello che si raduna annualmente a Davos per tutelare i propri interessi, per progettare il proprio futuro e, se volete, anche per programmare l'abbattimento dei superstiti, ostacoli a tale prospettiva. Ecco, presentando ovviamente il tutto come nel benessere dell'universalità dell'umanità. Il vecchio Marx avrebbe detto che è l'ideologia. L'ideologia è presentare l'interesse della parte dominante come se fosse l'interesse di tutti. Ecco, l'emergenza epidemiologica ha rappresentato per il blocco dominante una rara ma stretta finestra di opportunità per accelerare e potenziare la transizione a una nuova e ancora più radicale figura del capitalismo. E qui abbiamo il tema che ci interessa, cioè appunto l'emergenza come metodo di governo. C'è un'emergenza, tralasciamo in questa sede quale sia la sua origine, se è la zoonosi, se è la fuga dal laboratorio, se è la creazione ad hoc di un patogeno in laboratorio. Lasciamo da parte questo tema controverso. Diciamo però che l'emergenza, quale che sia la sua origine, ha rappresentato una finestra d'opportunità per i gruppi dominanti che ad Avos hanno discusso di come metterla a frutto, di come favorire un mutamento del capitalismo ancora più vantaggioso per i gruppi dominanti. Smart working, e-commerce e tante altre cose che presto analizzeremo. E' per questa ragione che, come si diceva, il Great Reset è il grande ricominciamento a beneficio dei gruppi dominanti. In realtà la formula grande ricominciamento è un po' equivoca perché lascia intendere che il capitalismo sia zerato e si vada oltre. In realtà è una continuazione, è un potenziamento del capitalismo, quello che è stato fatto. Il vecchio Gramsci lo chiamerebbe un prolungamento organico del vecchio mondo capitalistico, che viene certo riorganizzato in forma inedita e inciosta all'elemento di azzeramento, reset, che dir si voglia, ma sempre in coerenza con i fondamenti della civiltà del capitale. Quindi il capitale si potenzia, si rinnova, si muta, ma a beneficio dei gruppi dominanti. Questi fondamenti del capitale in sintesi sono la valorizzazione del valore, il feticismo della forma merce, il mito della crescita infinita, l'alienazione, l'ontologia utilitaristica, che pensa il mondo intero, l'essente, direbbe Heidegger, come disponibile per la volontà di potenza tecnocapitalistica. Vi segnalo, tra l'altro, proprio per dire che The Great Reason non è una formula necessariamente conflottistica, ma corrisponde a qualcosa di realmente esistente, che la copertina di ottobre 2020, che potete facilmente reperire in rete, titolava testualmente, ed era organizzata in collaborazione dal World Economic Forum e dal SOMPO Holdings, ecco, in copertina mostrava il mondo ridotto a cantiere. E proprio The Great Reason era il titolo che campeggiava a caratteri cubitali. Alludeva bene, quest'immagine del cantiere, alla ristrutturazione fatta dalle elite plutocratiche dominanti, grazie all'emergenza, quella che Gramsci ancora chiamerebbe una rivoluzione passiva. Cos'è la rivoluzione passiva? Nei quaderni del carcere, la rivoluzione passiva è la rivoluzione che fanno i gruppi dominanti, è la rivoluzione delle classi dominanti che rinsaldano il loro dominio. Un esempio di rivoluzione passiva, se volete, è la restaurazione dopo la rivoluzione francese. Un esempio di rivoluzione passiva, secondo Gramsci, è il fascismo, con cui le classi dominanti riorganizzano il modo della produzione a loro beneficio. Una rivoluzione passiva è anche, se vogliamo dire così, quella che è avvenuta e che sta avvenendo con l'emergenza epidemica. dice testualmente, ed è bene prenderlo in esame, dice testualmente il numero monografico della rivista Time. Il Covid-19 ha creato un'opportunità unica per pensare a proposito del futuro che vogliamo. Il Time ha fatto, in collaborazione con il World Economic Forum, un numero per chiedere ai pensatori di condividere idee per come trasformare il modo in cui noi viviamo. Ecco, ovviamente le voci convocate a intervenire non sono quelle dei lavoratori, dei cetimedi, di chi appunto lavora. Sono sempre quelle di provata ortodossia neoliberale, quindi grande capitale, aziende colossi dell'e-commerce, intellettuali di riferimento dell'ortodossia neoliberale. Solo loro devono decretare quale kind of future bisogna produrre. Ecco, questa seducente espressione di Great Reset allude in verità a una spietata rifeudalizzazione della società che viene riplasmata a uso e consumo del patriziato cosmopolita neoliberale e a documento, sa va a sandira anche in questo caso, delle nuove plebi distanziate socialmente, confinate periodicamente nel loro dimore, costrette alla solitudine telematica e poi sorvegliate biopoliticamente sopra e sotto la pelle con l'ingegneria sociale legata alle tessere verdi, ai cicli di vaccinazione e quant'altro. Quella del forum di Davos allora è una operazione ideologica preventiva. Perché? Perché tende per un verso a scongiurare dall'alto il rischio che dalla pandemia possano rampollare magari ricette e sensibilità che recuperino la centralità dello Stato sovrano, della politica come forza in grado di regolamentare l'economia investendo nel pubblico e dunque in direzione contraria alle tendenze neoliberali. Ecco, magari in effetti al cospetto dell'emergenza pandemica le classi dominate avrebbero potuto dire ci vuole più investimento nella sanità pubblica, ci vuole più Stato e meno mercato, ci vuole una diversa gestione delle cose. Il World Economic Forum ha spiegato da subito che la colpa dell'epidemia era di tutti fuorché delle classi dominanti, era di tutto fuorché dell'economia capitalistica, era semmai la colpa delle nuove plebi che non sapevano tenere il distanziamento, che osavano cercare la movida a tutti i costi. Le nuove generazioni, quelle che più hanno scontato queste conseguenze tragiche, che sono quelle che sono passate dalla movida alla novida, cioè senza più vita, sono state condannate ai lockdown e alle misure più repressive. La generazione Erasmus ne ha fatto le spese, ecco, e l'obiettivo era quello di evitare che si andasse in una direzione contraria rispetto agli interessi della global class. E poi il Great Reset, gestito dai plutocrati sans frontières, serve inoltre, in maniera congiunta direi, a far sì che la gestione della pandemia e del mondo sociale, politico ed economico che con essa viene formando, si sia monopolisticamente gestito dai gruppi dominanti, e ciò affinché il loro dominio risulti non solo non scalfito dall'emergenza epidemica, ma addirittura rinsaldato. L'obiettivo del forum è anche ideologicamente della massima importanza, perché è teso a far sì che sia neutralizzata la pensabilità di alternative all'infuori della gestione stessa, della situazione operata dalle forze dominanti neoliberali. In sostanza, i gruppi oligarchici neoliberali radunati a Davos hanno in primis raccolto le molteplici opportunità che si sono sprigionate dalla crisi, ad esempio ridurre le libertà dei ceti medi e delle classi lavoratrici, potenziare l'e-commerce, introdurre in forme coattive lo smart working o lavoro agile, che dir si voglia, ripensare una economia a beneficio dei gruppi dominanti che già erano ampiamente agevolati sul piano delle tassazioni, ad esempio l'e-commerce, che è divenuto l'unica forma praticabile nei lockdown di consumo. Poi hanno operato per scaricare ogni responsabilità dalla gestione politica ed economica del liberismo. Quello che non si è mai detto in questi due anni, se non tangenzialmente, con voce un po' fuori dal coro, è che se c'è stata questa emergenza e ha impattato in questo modo, molto è di peso anche dalla situazione drammatica in cui versa la sanità pubblica, ad esempio in Italia, ma nell'Europa tutta, grazie alle politiche neoliberali che di fatto hanno depotenziato il sistema sanitario. Sembrava invece che tutto fosse dovuto all'offensiva di un virus sciolto da ogni relazione con i gruppi egemonici. E poi ancora le classi dominanti hanno colto l'occasione, la stanno tuttora mettendo a frutto, 2022, per attuare una spietata ristrutturazione del capitalismo in senso spiccatamente autoritario, biopolitico e classista, ideologicamente contrabbandando questa ristrutturazione con il nome seducente di grande reset, di great reset, grande cambiamento. In realtà dietro questo nome seducente, quanto prodittorio, si nasconde una palese opera di privatizzazione integrale del mondo del lavoro, di diffusione onnipervasiva delle pratiche dell'e-commerce e dello smart working, di convergente annichilimento delle economie locali e di prossimità, e non in ultimo di disgregazione preordinata delle relazioni umane in presenza, che sono state, come sapete, sostituite dalla nuova figura intrinsecamente alienante, direi post-umana, delle relazioni elettroniche e da remoto. Il distanziamento sociale è uno strumento che è stato presentato come terapeutico, ma del resto tutto è stato presentato come terapeutico, il lockdown, il divieto di assembramento, ma che ha una chiara vocazione politica neoliberale la distruzione del rapporto con l'altro. Abbiamo barattato la comunità per l'immunità, abbiamo barattato la salute del corpo individuale con le relazioni sociali e questo è un aspetto sul quale già abbiamo insistito e che effettivamente ci permette di comprendere molto da un punto di vista neoliberale. Come dicevo, guardare all'emergenza solo dal punto di vista medico-scientifico non ci permette di comprendere realmente quello che sta accadendo. Per dirla con il vecchio giovenale, propter vitam vivendi perdere causas. Cioè sarebbe praticamente per difendere la vita si sono perse le cause del vivere, le buone ragioni per cui noi viviamo. Ecco, in sintesi, è quello che è in parte accaduto. Ecco, sotto questo riguardo Klaus Schwab prende in esame rapidamente il precipitato, se vogliamo, di quello che ha detto il World Economic Forum che trovate in qualche misura nel libro di Klaus Schwab Covid-19, The Great Reset, un libro che esce proprio nel 2020 e che fa il punto sulla situazione di fatto ricapitolando in forma compendiata le questioni del forum di Davos. Cosa dice in questo libro Klaus Schwab? Intanto l'introduzione al testo si apre con l'affermazione dell'eccezionalità dell'emergenza epidemica e socio-economica legata al Covid-19. Scrive Klaus Schwab La crisi mondiale innescata dalla pandemia del coronavirus non ha paralleli nella storia moderna. Quindi siamo fuori da ogni confronto con ciò che è accaduto. È una novitas assoluta. Da questo presupposto Klaus Schwab trae la conclusione per cui il Covid-19 segna una frattura epochemacend, epocale, irreversibile tra un prima e il dopo. Potremmo dire che la canonica partizione tra A, C e D, C, avanti Cristo e dopo Cristo diventa avanti coronavirus e dopo coronavirus dal punto di vista dei plutocrati del capitale. Molti di noi, scrive Schwab, stanno riflettendo su quando le cose torneranno alla normalità. La risposta in breve è la seguente. Mai, ecco mai, non si tornerà mai alla normalità, dice Schwab. Per questo appunto la pandemia del coronavirus segna un fondamentale punto di cesura nella nostra traiettoria globale, dice Schwab. I suoi effetti sono già visibili mentre il libro viene scritto, mentre il forum di Davos viene svolgendosi e dice Schwab daranno forma a una nuova normalità. New normal. Una nuova normalità radicalmente diversa da quella che ci lasceremo gradualmente alle spalle. Vedete, prende forma un nuovo mondo grazie all'emergenza o a causa dell'emergenza. Dipende dai punti di vista. I gruppi dominati dovrebbero dire a causa dell'emergenza, i gruppi dominanti invece potrebbero ben dire grazie all'emergenza. Gli autori Schwab e il sodale con il quale ha scritto questo libro che si chiama Thierry Maleret specificano che con l'emergenza prenderanno forma oltre alla nuova normalità le accelerazioni di molti mutamenti che stavano già avvenendo. E tornerò ancora su questo tema perché Grande Reset sì ma in realtà un prolungamento organico meglio dire con Gramsci il Grande Reset ha velocizzato molti processi che erano già in atto nel capitalismo di nuova fase e tra poco diremo quali ma in parte li abbiamo già evidenziati la grande novità del telelavoro in realtà era già anticipata da anni o l'e-commerce si sono potenziati e infatti dice Schwab il coronavirus accelera molti dei mutamenti che già stavano avvenendo in un capitolo che è veramente interessante si intitola The Economics of Covid-19 quindi l'economia del Covid-19 si ammette che è ben distante dalla certezza che la crisi legata al Covid-19 produrrà un bilanciamento a favore del lavoro e contro il capitale ecco in effetti l'avevamo intuito che la gestione dell'emergenza non fosse propriamente a favore del lavoro e magari fosse anzi apertamente a favore del capitale cioè quod erat demonstrando che i gruppi dominanti avrebbero poi messo a frutto l'emergenza volgendola a proprio favore e a questo proprio serviva il forum di Davos connesso al tema economico a cui ho fatto poc'anzicenno è quello legato alla digitalizzazione della società e voi sapete digitalizzazione un'altra parola chiave della neolingua liberista contemporanea pandemica e si sviluppa questo tema in un breve capitolo di Schwab che si intitola Accelerating the Digital Transformation quindi accelerare la trasformazione digitale dove si sostiene che i lockdown e le misure emergenziali hanno forced costretto molti consumatori che erano precedentemente avversi o non avvezzi al digitale a cambiare le proprie abitudini ad esempio sono esempi che fa Klaus Schwab guardare film in rete anziché andare al cinema consumare i pasti consegnati a casa anziché andare al ristorante parlare con gli amici da remoto anziché incontrarli di persona ecco queste abitudini sono state imposte dall'emergenza l'isolamento programmatico pensate anche solo al cibo da sporto sparisce l'elemento conviviale comunitario il cibo è ridotto alla sua funzione del sostentamento materiale sparisce l'elemento umano culturale conviviale del pasto e quindi si abolisce il prossimo anche sotto questo riguardo per questo motivo scrive Klaus Schwab la maggior parte delle cose sono divenute e cose e-learning e-commerce e-gaming e-books e-attendance quindi si passa al virtuale si ha la digitalizzazione si entra nel regno delle non-cose come le ha chiamate Byung-Chun-Lan che è questo filosofo coreano naturalizzato tedesco le non-cose le e-things si sofferma molto Schwab sui behavioral changes sui cambiamenti comportamentali domandandosi quali saranno irreversibili vedete Grande Reset dice questo un mutamento epocale che segna un passaggio irreversibile e c'è una parte anche sull'individual reset sul cambiamento individuale come ciascuno di noi deve cambiare per via della pandemia c'è anche una parte sul ridefinire la nostra umanità ecco il transumanesimo di cui si parla la nostra umanità deve essere aggiornata deve fare l'upgrade grazie all'emergenza bisogna in qualche modo stabilire le changing priorities dice Schwab le priorità di cambiamento e poi c'è ovviamente immancabile un capitolo sulla resilienza come nuova virtù delle classi dominate celebrate dai gruppi dominanti in sostanza ci dice Klaus Schwab anticipando di quasi due anni il piano nazionale di riprese e resilienza di Mario Draghi ci spiega che la resilienza è la virtù fondamentale siate resilienti la resilienza è l'opposto della ribellione e della rivoluzione la resilienza è l'adattamento all'ordine delle cose o se preferite è la capacità del soggetto di subire senza contraccolpi e soprattutto senza moti oppositivi individuali o corali che sia il resiliente è colui che anziché cambiare l'oggetto che gli sta di fronte lo subisce e cambia tutt'al più se stesso per sopportare meglio questa in sintesi la resilienza di cui più estesamente mi sono occupato in un saggio dedicato al tema dice Klaus Schwab leggo come tutte le buone pratiche la resilienza comincia a casa con noi cosicché possiamo verosimilmente assumere che nell'era post-pandemica saremo collettivamente più consapevoli dell'importanza della nostra propria resilienza fisica e mentale la pandemia ci insegna anche a essere resilienti a sopportare meglio per inciso lo scriveva nel libro del 2020 e poi in queste settimane con il nuovo forum di Davos che si è svolto qualche settimana fa ha ribadito l'importanza della resilienza al cospetto di nuove pandemie che verranno sì perché ne verranno altre ci hanno già detto anche perché se no l'emergenza finirebbe bisognerebbe tornare alla normalità ma se questa è la nuova normalità occorre che l'emergenza pandemica persista di modo che anche le misure emergenziali sussistano avete ben capito che tra misure emergenziali ed emergenza si dà una simbiosi quello che Deleuze chiamerebbe un dispositif un dispositivo per cui quello che Foucault ancora prima che Deleuze chiamerebbe un dispositivo cioè appunto un intreccio non sappiamo più se siano le misure emergenziali ad aver bisogno dell'emergenza o se sia l'emergenza ad aver bisogno delle misure emergenziali le classi dominanti ed è davvero il segreto di Pulcinella non vogliono soggetti resistenti ed eventualmente anche ribelli sperano invece in soggettività resilienti e dunque infinitamente disponibili in chiave subalterna a subire il massacro di classe gestito univocamente dall'alto dall'alto e quindi possiamo ben dire che sotto questo riguardo il World Economic Forum e anche Schwab hanno messo bene a punto questo tema voglio ancora spendere due parole a proposito del grande reset su quanto ho accennato poc'anzi possiamo dire che il grande reset più che un un azzeramento totale è un'accelerazione un potenziamento di alcune tendenze che già da tempo erano ben visibili nella globalizzazione capitalistica quindi preferirei che si usasse la formula di prolungamento organico con Gramsci o se preferite di potenziamento del capitalismo stesso grazie all'emergenza l'abbiamo detto fin dalla prima lezione l'emergenza come metodo di governo permette ai gruppi dominanti di fare cose che senza l'emergenza non riuscirebbero a fare o faticherebbero assai a fare ad esempio imporre le telelezioni imporre il telelavoro ovviamente viene presentato il telelavoro come una pratica per proteggere le vite dall'emergenza epidemica ma è bene evidente come il telelavoro sia una riorganizzazione padronale verticistica del mondo del lavoro a beneficio dei gruppi dominanti per tante ragioni che non sto ora a prendere in esame ma pensate anche solo al fatto che il lavoratore in smart working è isolato in smart working sparisce o si affievolisce notevolmente la differenza tra tempo della vita e tempo del lavoro i costi ricadono sul lavoratore il lavoratore è potenzialmente controllato anche nella propria dimora e tanti altri punti ancora se avete interesse leggete lo splendido libro di Savino Balzano che si intitola contro lo smart working ma il punto è un altro il punto è che potremmo dire che il coronavirus nel suo uso ha nel suo uso di classe ecco nel suo uso politico sociale ed economico ha potenziato tendenze che erano già in atto nella globalizzazione e ha possiamo dire così di classe non è stata l'emergenza in quanto tale ma sicuramente lo è stata la gestione economica politica e sociale della medesima tant'è vero che quasi da subito la pandemia del covid-19 si è mutata in pandemia della disuguaglianza e ha assunto connotati inaggirabilmente e direi anche tragicamente socio-economici anzitutto permettetemi di ricordare che il covid-19 ha accelerato il già collaudatissimo processo di privatizzazione delle esistenze il capitalismo si basa sull'espulsione dell'altro sull'insocievole socievolezza diceva Kant sul mero cash nexus diceva Carlyle cioè il nesso economico di danaro ecco il coronavirus ha confermato e rafforzato questa tendenza e l'ha fatto ergendo il principio del distanziamento sociale a nuova norma organizzativa della società degli atomi in lockdown i quali atomi in lockdown sono liberi solo di acquistare merci meglio se online con potenziamento illimitato dell'e-commerce come voi sapete mettere in lockdown le persone e costringere i negozianti di prossimità a chiudere lasciando invece come unica forma di consumo quello degli e-commerce significa proteggere le vite come hanno detto o potenziare infinitamente suddette categorie dell'e-commerce punto di domanda ecco curiosamente appunto i gruppi e-commerce a differenza dei piccoli artigiani e delle piccole imprese stra-paesane non sono mai stati sottoposti a lockdown né li si è fatti chiudere dicendo che facevano concorrenza sleale in quel contesto e quindi mentre i negozi di prossimità sono condannati con il lockdown a periodi di chiusura i colossi e-commerce non solo non sono costretti a chiudere ma possano inanellare i loro successi beneficiando a dell'assenza di concorrenza delle imprese locali b del malcelato obbligo per il tramite della negazione delle alternative imposto ai cittadini in lockdown di comprare con l'e-commerce quindi vedete l'e-commerce non è stato inventato dal coronavirus ma è diventato una nuova normalità con il coronavirus quanti di noi nemmeno sapevano cosa volesse dire comprare con l'e-commerce prima del 2020 e quanti di noi ora non sanno più farne a meno perché si sono assuefatti a questo nuovo modo di consumare ecco in questo sotto questo riguardo ripeto la globalizzazione è stata non distrutta come hanno detto alcuni il coronavirus ha potenziato gli aspetti di classe della globalizzazione la pandemia ha suppliziato e flagellato i lavoratori e i ceti medi i salariati con contratti atipici e le piccole imprese locali gli artigiani e il ceto medio e insieme ha permesso alle multinazionali ai colossi e-commerce del farmaco ai potentati economici di intensificare la produzione del plus valore facendo loro il più grande regalo che fosse possibile fare pensate anche solo piccolo paradosso se volete è il segreto dell'ordine neoliberale stati nazionali al servizio del capitale stati nazionali ridotti a comitati d'affari dei gruppi dominanti per dirla con Mars stati nazionali che costringono le loro popolazioni a vaccinarsi con vaccini prodotti da multinazionali del capitale ecco abbiamo qui un'immagine perfetta della globalizzazione capitalistica nell'occidente europeo senz'altro non deve poi essere dimenticata un'altra tendenza che mi pare non da trascurare il trasferimento della società online la società digitalizzata il mondo vero diventa favola parafrasando Nice e la società umana si disumanizza perché diventa una società senza contatto contactless society una società di monadi telematiche in cui tutto è a distanza la didattica il lavoro perfino le udienze in tribunale perfino le preghiere sono divenute per chi ci crede le funzioni religiose sono divenute per chi ci crede online in streaming la società umana delle relazioni tra i viventi fra i corpi fra gli sguardi si sgretola nell'atomistica delle solitudini connesse via internet con volti traballanti in pixel sugli schermi la comunità reale è spodestata dalla community non comunitaria di un mondo in cui sono tutti ridotti a monadi digitali in cui siamo wireless ma senza connessioni reali in cui siamo connessi al virtuale e disconnessi dal reale il coronavirus poi ha potenziato un'altra tendenza già esistente quello che la studiosa di origini russe Shoshana Zubov ha chiamato il capitalismo della sorveglianza l'emergenza esisteva già prima infatti il libro della Zubov è prima del coronavirus ma il coronavirus l'ha potenziato ulteriormente portandolo anche under the skin sotto la pelle se c'è l'emergenza terapeutica per garantire la sicurezza bisogna controllare meglio tutti senza esclusione con app di tracciamento con codici QR e questo è quello che è stato fatto ovviamente la nostra preoccupazione non è solo per la sofferenza che ciò ha già cagionato in noi ma per la consapevolezza che tornerà a ripetersi dato che è già un collaudato metodo di governo ecco con buona pace di alcune narrazioni fumettistiche che hanno parlato di gestione solidale di solidarietà gli stessi che hanno distrutto la sanità pubblica che hanno fatto del cannibalismo del profitto la razza essente di questo mondo poi hanno tirato fuori la parola solidarietà ma non c'è stata nessuna solidarietà non c'è stata nessuna solidarietà per il fatto che basta vedere la forbice sociale come si è potenziata basta vedere come nell'abisso sono precipitati ancor più quelli che già non se la passavano proprio bene vi leggo alcuni titoli di giornali di giornale alla rinfusa repubblica 21 maggio 2020 coronavirus in italia un milione di nuove poveri da inizio pandemia ancora rai news 29 ottobre 2020 terzo trimestre amazon alfabet e apple chiudono con ricavi oltre le aspettative ecco questi due titoli bastano ad avere una visione per così dire approssimativa di quello che abbiamo detto altra tendenza si sono decostruite le democrazie era già una tendenza in atto nel neoliberismo la decomposizione dei parlamenti a favore di enti sovranazionali come la BCE o il Fondo Monetario Internazionale il coronavirus l'ha potenziato se c'è l'emergenza occorre la decisione dell'uomo solo al comando ci vogliono i comitati tecnico-scientifici e le task forces non eletti da nessuno ci vogliono gli esperti e i tecnici e poco importa poi se dietro ogni esperto c'è un banchiere e dietro ogni tecnico c'è un top manager di ortodossa fede neoliberale bisogna dare a loro la gestione del potere perché solo loro nell'emergenza hanno il titolo per decidere ecco e quindi abbiamo visto anche anche questo nell'emergenza abbiamo visto una sorta di depotenziamento ulteriore degli spazi democratici e forse bisognerebbe ammettere come di fatto è stato ammesso implicitamente che se c'è l'emergenza epidemica i metodi democratici non vanno bene per gestirla funziona meglio un metodo autoritario e se l'emergenza durerà o ne sopraggiungeranno delle altre bisognerà continuare con questo metodo autoritario che potrà non piacere ma il solo per garantire la vita la sicurezza nel tempo dell'emergenza e qui intrecciamo di nuovo il nostro discorso con quello che abbiamo già sviluppato nelle precedenti lezioni secondo cui l'emergenza attiva un dispositivo per cui la vita viene messa a rischio dalle emergenze e quindi per proteggerla diventa accettabile la riduzione delle libertà e dei diritti e quindi la domanda che dobbiamo porre criticamente ma se accettiamo solo con l'emergenza e la riduzione delle libertà e dei diritti senza insorgere non potrà poi il potere usare ad hoc le emergenze proprio per farci accettare di volta in volta queste limitazioni di diritti e di libertà punto di domanda una domanda che credo sia doverosa e che tutti dovremmo seriamente porre non sarà forse che l'ordine dei plutocrati del capitale ha capito bene che con l'emergenza governa meglio il parco umano decostruendo in partenza ogni capacità di resistenza perché voi capite che se all'improvviso vi chiudono il lockdown vi impongono il telelavoro vi limitano la libertà di partecipazione di assemblea capite subito quello che sta avvenendo un grande reset una riorganizzazione a beneficio dei gruppi dominanti una rivoluzione passiva per dirla con Gramsci se però c'è un'emergenza che non concede alternative e lo si fa non per limitare le libertà e diritti ma per difendere la salute allora tutto cambia nell'ordine della narrazione l'obiettivo raggiunto è il medesimo ma viene fatto con più eleganze soprattutto ottundendo le menti producendo una sorta di neutralizzazione di sterilizzazione della capacità di pensare ecco questo è quello che è avvenuto io credo in questi due anni e avverrà ancora per molto tempo ancora basta leggere i titoli dei giornali in questo mese di giugno 2022 per sapere che l'emergenza non sta finendo non è dietro di noi larga parte dell'emergenza è davanti a noi perché è un metodo di governo l'abbiamo detto all'infinito e lo diremo ancora molte volte l'emergenza non è una coincidenza che capita in un ordine normale l'emergenza è già il fondamento di questo ordine vivere nell'emergenza è la cifra dell'ordine neoliberale per questo per molto tempo ancora vivremo nell'emergenza e i più subiscono accettano rispettano le norme dell'emergenza pensando che così si uscirà dall'emergenza e non hanno capito che invece l'emergenza non finisce proprio perché loro accettano subiscono e rispettano questo nuovo modo di governare le cose e le persone e questo è il punto fondamentale di questo grande reset che stiamo vivendo anzi subendo sulla nostra carne viva grazie a tutti